Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi in questa breve video lezione voglio mostrarvi una funzionalità veramente molto interessante che è la gestione della cronologia degli appunti su Windows 11. Che cos'è questa funzionalità? È una feature che va ad arricchire, a mio modo di vedere, enormemente quello che è un classico che noi facciamo spessissimo sul nostro PC, che sarebbe il copia e incolla o il taglia e incolla. Voi ora mi direte non ci verrei mica a spiegare come si fa il copia e incolla, assolutamente no, lo sapete benissimo, ma quello che vi voglio spiegare oggi è che c'è appunto una funzionalità in grado di andare ad arricchire questa cosa che noi facciamo veramente tante volte quando utilizziamo il nostro computer o durante una sessione di lavoro. In cosa consiste? Andiamo a vederlo subito, molto più semplice mostrarvelo. Andiamo sulla barra di ricerca di Windows 11 e scriviamo banalmente appunti. Vi proporrà la corrispondenza migliore, impostazione appunti. Clicchiamo su impostazione appunti e come potete vedere questa funzionalità di qui è stata disattivata e disattivata di default. Andiamo ad abilitarla, giusto per vedere appunto come funziona. Ricordatevi che la potete richiamare tramite il tasto Windows, che sarebbe il tasto a forma di logo di Windows, di bandierina, che generalmente si trova tra il CTRL e l'ALT, più la V di Verona. Ok? Quindi abbiamo abilitato, andiamo a chiudere e vi spiego subito di che cosa si tratta. Quando noi abbiamo a che fare con elementi testuali, ho creato tre documenti di testo all'interno dei quali ho scritto tre cose diverse. E vi faccio vedere subito. In un file ho scritto ciao e vado a fare copia. In un altro ho scritto appresto, nel numero tre, e anche qui vado a fare copia. E nel secondo ho scritto arrivederci. E anche qua faccio copia. Ora, il limite del copia e incolla qual è? Che ad essere incollato è l'ultimo elemento che ho copiato. Quindi in questo caso l'ultimo elemento che io ho copiato è arrivederci, pertanto se io mi sposto in basso e faccio CTRL V, cioè l'incolla, lui mi incolla l'arrivederci, che è stato l'ultimo elemento che avevo copiato. Ma se io durante la mia sessione di lavoro avevo preso qua e là degli elementi che mi potevano servire per gestire il mio lavoro, naturalmente li perdo. Magari degli ispezioni di testo, magari dei link, delle cose. Quindi se lui mi incolla solo l'ultimo elemento è una funzionalità che ha dei limiti, anche abbastanza grossi e limitati all'ultima azione che ho fatto. Ma grazie alla funzionalità cronologia appunti, che come vi ho detto si richiama dal tasto CTRL V, scusate, tasto Windows più V, guardate che cosa succede. Lui mi ha creato una cronologia degli appunti di quello che io avevo copiato, bene, quindi che cosa succede? Che se io non volessi incollare l'ultimo elemento che ho copiato, cioè arrivederci, ma volessi incollare il primo elemento che avevo copiato, mi sposto di nuovo sul file 2, faccio CTRL V e vedete che stavolta mi ha incollato Ciao, perché è stato quello che ho selezionato dalla cronologia degli appunti, perché ho detto guarda io voglio incollare questo qua, ok? Non l'ultimo che avevo fatto. E la stessa cosa lo posso fare per appresto, vedete addirittura me lo incolla direttamente, se per caso ho la finestra già aperta, vedete, facciamo per esempio arrivederci, ok, facciamo ciao, vedete? Mi va incollando tutto questo, quindi questo capite bene che è molto comodo nel momento in cui lavoro con tanti elementi contemporaneamente e magari vado vedendo degli spezzoni qua e là di cose che mi interessano. Questa cosa funziona naturalmente anche nei confronti di quelli che sono per esempio dei banalissimi link, quindi se io faccio il copia del, per esempio del sito internet, in questo caso la login della posta elettronica di Libero, anche qui andando a richiamare Windows V mi va a, in basso, ecco qua, negli appunti, ecco, ci ho messo qualche secondo, si è popolato, vedete l'ultimo elemento, loginlibero.it, anche in questo caso potrei tranquillamente andarlo a copiare, vedete, sul mio foglio in maniera molto rapida. Naturalmente possiamo cancellare tutti gli appunti, possiamo eliminarne singolarmente uno, oppure, vedete, possiamo manualmente andare ad incollare senza bisogno di lasciarlo fare a lui. Magari se per caso appunto avevamo messo, ridotto la finestra d'icona e avevamo cliccato qui, poi ci spostiamo qua, andiamo in basso, richiamiamo la finestra o facciamo tasto destro in colla e clicchiamo in colla. Questo è quanto. Quindi molto molto semplice, ma molto molto efficace, a mio avviso, quindi molto comodo per chi lavora con gli appunti. Come vi ho detto, tasto Windows V si può cancellare tutta la cronologia degli appunti e in più il sistema mi offre anche delle simpatiche emoticon che posso utilizzare a piacimento insieme agli appunti, oppure anche delle GIF, insomma, tanto altro, simboli e quant'altro. Un'altra cosa molto interessante che vale la pena dirvi prima di lasciarci è quella che la cronologia degli appunti si può utilizzare anche sullo stesso account sincronizzandolo dai vari dispositivi. Che cosa significa? Che se la sincronizzazione dell'account Microsoft è attiva e io accedo con il mio account Microsoft sui miei vari PC di casa e dell'ufficio, la cronologia degli appunti, quindi tutto quello che avrò appuntato in ufficio, me lo ritroverò a casa e viceversa nella famosa cronologia che avete visto prima. Quindi anche questo molto interessante perché vi permette di unire in qualche modo tutto ciò che sono gli elementi che ritenete interessanti e meritevoli di approfondimento sia sul lavoro che a casa e viceversa. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento. Al prossimo video. Ciao!